Grazie Presidente, Signor Ministro, colleghi, le sue sono state come sempre belle parole, anche se però poi ci rendiamo conto che nei fatti l'atteggiamento del Governo italiano ancora una volta non va oltre queste belle parole perché non vediamo al di là delle prese di posizione che diplomaticamente sembrano quasi dovute, soprattutto quando si tratta di brutali, violenti e feroci anche repressione dell'espressione democratica di protesta. Ripeto, non ci sembra che il Governo poi abbia posto in essere nessun tipo di iniziativa concreta a difesa di quelli che sono in qualche modo i testimoni di una resistenza che noi dovremmo in qualche modo sostenere in maniera più convinta rispetto a quel processo di re-islamizzazione che Erdogan sta cercando di portare avanti. Allora, noi molto semplicemente diremo tre cose. La prima è che siamo a fianco di quei giovani che protestano nelle città turche, che hanno una visione sicuramente, sì, vicina a quella che è il modo di vivere occidentale e europeo, ma che purtroppo sappiamo benissimo essere una minoranza all'interno di quel Paese. Siamo contro quello che è il disegno oscurantista di Erdogan. Siamo contro quello che è una sorta di avanguardia di una polizia religiosa che vorrebbe imporre in qualche modo un nuovo strisciante regime islamista che vorrebbe dire ai cittadini quali sono nuovi divieti, quali sono nuovi veli, quali sono nuovi comportamenti che, come ricordava prima il collega Fava, altrimenti rischiano di essere sanzionati non in virtù di regole democratiche, ma in virtù di regole religiose. Seconda cosa, Erdogan non è un europeista, non è un uomo che in qualche modo noi possiamo definire un garante di quelle che sono le regole che l'Europa richiede per poter procedere nel processo di adesione, proseguire, scusate, nel processo di adesione da parte della Turchia e dell'Unione Europea. Erdogan ha gettato la maschera, Erdogan non è una persona che intende la democrazia come fine, ma la intende in maniera molto pericolosa come strumento per distruggere, per riportare a uno scuro passato ottomano la Turchia che molto faticosamente invece aveva fatto nel passato passi enormi verso processi di democratizzazione reale. Erdogan ha gettato la maschera, così come ha gettato la maschera il suo partito. Chi pensa che la KP da questa parte dell'oceano come dall'altra sia in realtà una DC musulmana, è un esercizio veramente di fantasia, lo so che è uno simoro, però lo si è sentito ricordare più volte, per dire che è qualcosa di molto soft. No, la KP non è un qualcosa di soft, la KP è Islam politico. Forse soft solo ed esclusivamente nei metodi graduali di re-islamizzazione di questi territori, ma una gradualità che, come si è visto dall'accelerazione delle violenze che ci sono state, non solo a Istanbul, Ankara, ma anche in altre città, sono alla fin fine venute meno. La terza cosa che noi vogliamo dire e porre come riflessione è in cosa somiglia questa Turchia all'Europa. Perché onestamente, al di là, ripeto, della volontà di una minoranza di questi giovani, che noi sosteniamo e sosterremo sempre, e ci auguriamo che il governo, il governo italiano, perché chiaramente l'Europa, la politica estera dell'Europa, è quanto di più debole e inconsistente si sia mai visto nella storia della diplomazia. Noi ci chiediamo come si può continuare, in questa fase qui, a spingere verso un processo di integrazione dell'Unione Europea, quando è chiaro che tutti gli indicatori, soprattutto quelli della tenuta democratica di questo Paese, vanno nella direzione contraria. Allora, quali sono i veri interessi di questa spinta verso l'integrazione dell'Unione Europea? Sono interessi veramente di democratizzazione, che non mi pare sortiscano a quel tipo di risultato concreto, o sono interessi di quelle lobby europee, della delocalizzazione per l'impoverimento ulteriore dei nostri territori? O sono interessi, come ricordava qualcuno prima, anche legati a questioni energetiche? Non sono sicuramente interessi di democrazia, perché altrimenti ci sarebbero atteggiamenti diversi, altrimenti le cose verrebbero chiamate con il loro nome, e non ci sarebbe questo atteggiamento pavido nei confronti della Turchia, perché è un atteggiamento pavido, ed è, fra l'altro, molto distante dal suo modo di vedere e di intendere le cose che noi conosciamo bene. Non sto parlando di lei in particolare, sto parlando in generale, dell'atteggiamento in generale che i governi europei stanno tenendo nei confronti dell'Europa, e soprattutto dell'Europa, soprattutto la Ashton, che, come al solito, non pervenuta, ma chiaramente nel momento in cui si mette a capo, finisco, concludo. Allora, noi abbiamo un timore, che si voglia correre in maniera sconsiderata verso l'allargamento dell'Unione Europea, l'adesione della Turchia all'Unione Europea, senza considerare che non si stanno facendo dei passi avanti, si stanno facendo dei passi indietro. Il timore è che si verifichi in qualche modo... Il timore è che si verifichi in qualche modo nuovamente una situazione di imbarazzo, come quella che ci ricordiamo del famoso caso Cialan. Grazie.